benvenuti benvenuti che amici siamo b di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il botone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale telegram andiamo a vedere btc20 in tantissimi ma avete scritto letteralmente riguardo questo progetto e per cui andiamo a analizzarlo insieme ovviamente vi ricordo non solo nei corsi finanziari e corsi però io come sempre vado a prendere quelli che sono i maggiori progetti di cui mi scrivete in DM sia su twitter sia su instagram sia su tiktok ovunque e vado a prendere quelli che praticamente mi avete più menzionato quindi soprattutto progetti anche che a me stesso interessa e soprattutto per compiere analisi perché andiamo a vedere btc20 perché qual è il suo obiettivo è innanzitutto una presale che finora ha raccolto 1.8 milioni di dollari a fronte di un totale di 3 milioni quindi questo è il loro obiettivo vi ricordo che al momento il costo di un btc20 è pari ad un dollaro quindi fino al raggiungimento di 3 milioni sarà il prezzo un dollaro poi andrà ad aumentare quindi qual è il loro obiettivo loro dicono così dicono che i ragazzi c'è quindi da prendere tutto con le pinze ovviamente poi vedremo in futuro se farà numeri letteralmente questo progetto è il primo bitcoin su rc20 ok primo elemento è il prezzo è di un dollaro loro dicono hai perso bitcoin nel 2011 non preoccuparti questo è come bitcoin nel 2011 ora da mio punto di vista davvero difficile c'è un qualcosa come bitcoin secondo me è irrepetibile però potrebbe far bene come potete vedere l'acquisto è semplicissimo potete comprarlo o con ethereum o con usdt oppure secondo me soluzione più semplice tra virgolette vai qua con compra bnb tu compri su bnb paghi meno commissioni ed è meglio che penso non ho provato però andrò a vedere penso un cipino che lo vado a mettere questo è un problema di euro ovviamente vado a considerare quello che rischio rendimento quindi potenzialmente secondo me è un progetto o che andrà a fare veramente numeri come dcx 20x 30x ovviamente dovete avere una strategia oppure va a zero ok non è che ci sono via di mezzo sulle pre sale c'è di solito così poi andiamo a vedere che cos'è ok btc20 quindi come detto si contraddistingue rispetto a bitcoin perché bitcoin sappiamo che lavora ok attraverso il proof of work quindi attraverso i miners che danno le ricompense mentre qui abbiamo un sistema di proof of stake quindi probabilmente voi riceverete i vostri btc20 poi se volete li mettete in staking andrete a ricevere una rewards che altro rewards dovrebbe addirittura loro dicono durare per 120 anni quindi loro vogliono riprodurre quello che l'ecosistema di bitcoin poi l'offerta totale sarà pari a 21 milioni di token e fino ai primi 6 milioni che è stata la offerta in circolazione bitcoin fino al 2011 o che il prezzo sarà pari ad un dollaro quindi praticamente loro dicono guardate fino ai primi 3 milioni di pre sale te lo do a un dollaro dopo letteralmente il prezzo aumenterà questo è quello che si prefiguro e tutti i token veduti cioè la differenza ne abbiamo 6 milioni e un dollaro quindi circa 15 milioni saranno letteralmente bloccati ok attraverso un contratto di staking per premiare per quelli che sono gli holders di btc20 dopodiché come funziona staking penso che tutti lo sapete penso aprire una sezione nel quale voi potete mettere letteralmente i vostri btc20 in stake quindi che cosa verrà voi ce li avrete nel metamask e dopo se vorrete li potrete delegare ovviamente vi ricordo che delegare implica grossi rischi perché se la piattaforma tra virgolette muore perdete anche i token per cui vi ricordo sempre letteralmente sicurezza quando andate su questi token anche nei preservarli dopodiché come acquistare btc20 per ora non è di stato per l'appunto solo con exchange perché come abbiamo detto una presale vi ricordo fasi presale che tendenzialmente molto rischiosa però ovviamente essendo molto rischiosa può dare anche grossi rendimenti e quindi secondo me è più una coin eventualmente se la valutate vi ricordo da cp no mentre io prendo le coin che voi o che mi andate più a menzionare e ora vorrei andare a vedere quelle che sono le varie fasi perché ora siamo nel 2023 nel q3 barra q4 nei quali siamo per l'appunto nella fase pre vendita il cui il prezzo sta un dollaro quindi loro dicono letteralmente bassissimo questo secondo loro sarà il prezzo più basso lo vedremo ovviamente sarà così poi lancia deviazione lo staking che avverrà successivamente e poi fase nel primo quarter fino all'ultimo quota del 2024 sviluppo ed espansione quindi sarà qui ok che inizierà a pampare il progetto ok sarà qui che inizieranno i listing sull'exchange questo è quello che si prefiggono e poi ovviamente l'obiettivo è quello di dar vita ad un progetto a lungo termine 2025 volte che cosa ho da dire dal mio punto di vista ovviamente il progetto può morire cioè questa è una roadmap che vi ricordo è una roadmap cioè il progetto può morire anche prima perché se non vengono soddisfatte le condizioni sufficienti necessarie vi ricordo che i progetti muovono quindi qua ci sarà sicuramente qualche condizione che bisogna soddisfare per continuare quella che l'ecosostenibilità del progetto cioè avere afflussi di capitali ok questo è un po il senso poi se avete anche voi delle domande scrivetele sotto nei commenti che magari si potrebbe anche fare un altro video per andare a vedere ok eventualmente e qua trovate le principali domande esempio quando sono le date previste per lancio perché magari uno si chiede guarda Samu io prendo il token ma quando mi arriva quando raggiungono i 3 milioni ok quindi voi starete qui ve lo mostro subito voi dovete star qua guardare l'arrivo che di 3 milioni e poi in sostanza lanceranno il token questo dovrebbe venire ovviamente dove le andranno a comunicare ritengo che le andranno a comunicare sul loro twitter se volete seguiteli ok e vi ricordo che se volete acquistare il token trovate sotto la fine descrizione ok vi lo lascio del sito così eventualmente è già più semplice cliccate e soprattutto non andate su scam perché qual è uno dei problemi principali che tanti progetti vanno a copiare ok altri progetti vi creano lo scam voi mai ricomprate uno scam soprattutto sulle preselli quindi se dovete cioè non è che dovete se volete acquistarlo meglio il link trovate sotto in descrizione perché così acquistate sicuramente il progetto giusto ok poi il progetto ovviamente può anche tra virgolette andare male quindi niente sicuro però almeno sapete che questo è il progetto giusto che questo è il discorso dopodiché questo twitter per ora 1791 follower non sono tanti però insomma iniziano ad essere interessanti poi anche se guardiamo il numero di like non sono pochi ok rispetto a quello che è il numero di tweet al momento quindi di follower quindi secondo me è molto interessante ok come progetto quindi vedremo settimane questo sarà il nuovo bitcoin tra virgolette la vedo difficile però data il fatto che siamo all'interno il numero preselli secondo me è un progetto che potrebbe fare bene ovviamente ti ricordo che questo progetto potrebbe anche andare a male cioè a zero quindi qual è la mia idea su questo progetto riassumendo che in breve o farà numeri quindi almeno un 10 o un 20x e ti ricordo sempre devi assolutamente sottolineare la strategia oppure il progetto potrà morire questa è letteralmente la mia idea e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di discriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre